Cari amiche e cari amici, continuiamo le nostre riflessioni sul significato dell'essere monaci ai nostri giorni e di praticare un percorso di contemplazione nell'attività, nella vita quotidiana. Abbiamo visto che c'è una tensione tra la spiritualità monastica classica e la sua interpretazione contemporanea. Nel monachesimo classico c'era un andare oltre che richiedeva un abbandono della vita quotidiana, un rinchiudersi tra le quattro mura del convento e questo era considerato un prerequisito proprio per conseguire il fine definitivo. Nella spiritualità monastica contemporanea, invece, questo andare oltre non richiede più il rinchiudersi tra quattro mura, anzi richiede un aprirsi ad una nuova dimensione di relazione con gli altri e con della quotidianità. Dunque anche gli elementi materiali della realtà e del vissuto quotidiano non sono più visti come qualcosa da eliminare, ma come qualcosa da integrare. Allora la mentalità monastica dei nostri giorni ha proprio questa caratteristica, la integrazione, non l'esclusione, ma l'integrazione e l'armonizzazione di anche tutta una serie di comportamenti e così via che prima erano ritenuti essere fuori totalmente dal parametro del monachesimo e della contemplazione. Dunque il monachesimo dei nostri giorni è un monachesimo che non rinnega l'antico monachesimo, ma semplicemente rinnova la contemplazione, quel tipo di contemplazione con altre modalità. E noi monaci dei nostri giorni condividiamo con i laici la secolarità. non cerchiamo dei paradisi che ci attendono oltre questa vita, ma cerchiamo di scoprire attraverso la contemplazione e lo sviluppo di consapevolezza il nostro centro in questa vita, nella nostra azione quotidiana. E dunque ecco c'è quello che esotericamente viene chiamato lo sviluppo del terzo occhio, nell'ambito della vita quotidiana. Quindi non ci sono speranze ultraterrene, vi ricordate Nietzsche, vi scongiuro fratelli, restate fedeli alla terra e non vi fidate di chi parla di speranze ultraterrene, sono avveninatori di se stessa, ho parafrasato un po' Nietzsche. Bene, noi monaci dei nostri giorni non attendiamo nulla dal futuro, ma cerchiamo di penetrare nel presente, quindi nessuna attesa, nessun paradiso che dovrà arrivare chissà quando, forse dopo la nostra morte, no? E stessa cosa, niente rimpianti per il passato, ma semplicemente penetrazione nel presente, con il relativo distacco da tutta quella che è la memoria e i rimpianti del passato e questo tipo di situazioni psicologiche o le proiezioni nel futuro. E allora ecco la nuova alchimia dove si incontrano molte tendenze antiche e moderne ed ecco una nuova unificazione dell'essere attraverso un'otta che esattamente come quella del monaco tradizionale era molto dura, ma anche la lotta del monaco dei nostri giorni che vive nella quotidianità, nella parte finale del Kaliuga, in una dimensione dove tutto ti porta all'esterno, gli iPhone, Internet, i discorsi, i giornali, i mass media, tutto ti proietta all'esterno e andare controcorrente e al di fuori da ogni schema e quindi esaltare i valori del silenzio, della immobilità, del presente, della penetrazione del presente, il disprezzo massimo per la visione economica della vita, per la competizione che mira ad affermare il proprio ego rispetto a quello degli altri, ma la riaffermazione invece della solidarietà. Questa è la vera saggezza del monaco moderno e in questo il monaco dei nostri giorni vuole trasfigurare tutti i valori, nell'amore di tutto ciò che esiste, senza escludere nulla. Senza fare proiezioni in paradisi che non verranno mai. E siccome è scritto che niente è impossibile a Dio, il monaco che può credere in Dio come può non credere in Dio. Comunque, niente è impossibile a Dio, il compito è proprio quello di raggiungere ciò che a prima vista sembra impossibile, cioè il Tao, l'unione del cielo e della terra, l'unione della carne e del spirito, non vedere più separate lo spirito e il mondo come una volta, e così non vedere più separate il maschile dal femminile, come ci dicono gli alchimisti, e potremmo dire, non vedere più separate il sacro dagli elementi secolari. Ebbene, nella tradizione Rinzai, l'ultimo di quattro voti che si prendono, dice proprio «La via del Buddha è inaccessibile, faccio voto di seguirla». Questi sono questi paradossi meravigliosi, no? «La via del Buddha è inaccessibile, faccio voto di seguirla». E tante volte ho detto sul canale, agli amici del Sangha, noi attraverso l'ambitazione profonda non rifiutiamo nulla, neanche l'inferno rifiutiamo, ma anzi non solo non lo rifiutiamo, ma ci dobbiamo gettare a capo fitto nell'inferno, perché non rifiutiamo nulla, vogliamo andare a fondo su tutte le cose. E allora la perfezione a cui si aspira può essere un sogno pericoloso e alienante, perché non si può raggiungere se questo è un paradiso, indipendentemente se è il paradiso islamico con le vergine che ti aspettano, o il paradiso dei cristiani dove rivedrai, rincontrerai i parenti e così via. No, niente di tutto questo. Penetrazione nel presente, nicianamente fedeltà alla terra, alle nostre radici, ma qui e ora, a qui e ora, tenendo presente che abbiamo una storia, quindi anche le radici storiche contano, perché dobbiamo tenere ovviamente conto delle nostre radici storiche che hanno contribuito a formare ciò che siamo e la nostra percezione della realtà. Ma niente rimpianti, niente riproposizioni del passato. Siate luce a voi stessi, diceva Buddha. Questo è il nostro orientamento, fare luce a noi stessi. Certo, ogni tradizione possiede un passato, un presente e un futuro. Ogni tradizione umana, ogni incarnazione della tradizione con la T maiuscola metastorica, metatemporale, nell'ambito della storia umana. Certo che possiede un passato, un presente e un futuro. In ogni tradizione c'è la storia di quello che siamo oggi, quindi anche di ciò che è la modernità. Ma noi, monaci, dobbiamo vivere questa modernità non proiettate all'esterno, ma deprogrammandoci, decondizionandoci, acquisendo una maggior consapevolezza di noi stessi, un maggior rispetto per il pianeta Terra, per la natura, senza sconfinare nelle esaltazioni degli animalisti, dei vegani, in queste forme esasperate, di integralismo. No, basta con gli integralismi. Noi cerchiamo l'armonia nella semplicità. Nella semplicità. Attraverso la semplicità e l'integrazione nella quotidianità, cerchiamo di vivere e rinnovare l'elemento tradizionale con la T maiuscola. E questa è la parola tradizione, il tradere della parola tradizione, che trasmette anche ai nostri figli questo nuovo modo di percepire la realtà. E allora la salvezza, il nirvana, il brahman, chiamatelo come vi pare, ogni tradizione utilizza un non per definirlo. Ebbene, tutto questo non è più proiettato in un futuro idealizzato, che dovrà arrivare in luoghi dove ci sono le anime dei buonini e degli eletti. No, basta con questa storia. Questa coscienza penetra nel tempo e attraverso il tempo, per superare il tempo nell'immersione del presente. Non si tratta più di proiettarsi in un futuro lineare. Si tratta di verticalizzare la linea. Non è più una linea orizzontale, passato, presente e futuro. Ma è la verticale linea del presente che ti mette in contatto con la metafisica. E attraverso questa linea si supera anche ogni concetto geometrico della realtà, compresa la linea stessa. E si arriva alla totale vacuità. Allora non c'è nulla di male nello sperimentare. Lo spazio e il tempo anche con questa nuova visione. Con la consapevolezza di ciò che è la verità e ciò che è l'illusione. In questo modo potremo realizzarci pienamente, alla maggiore pienezza della nostra vita. Mentre viviamo di giorno in giorno. Mentre condividiamo. Non solo con i fratelli e le sorelle del Zanga. Ma anche con il nostro vicino di casa, con il nostro collega di lavoro. E ci mostriamo, in quanto monaci, disponibili ad ascoltare. E disponibili ogni volta a disintegrare ogni ego del nostro ego. E allora vivere questa realtà. Scoprire il significato dell'esistenza qui e ora. Non in una lotta frenetica e liberista per ottenere quello che non abbiamo e nel tentativo di affermare il nostro ego attraverso l'affermazione di noi stessi e il riconoscimento sociale. No, noi ce ne freghiamo. Me ne frego di tutto questo. Me ne frego. Noi dobbiamo semplicemente conquistare ciò che siamo. Fino a capire che non c'è niente da conquistare. Perché ciò che siamo, lo siamo, punto e basta. Allora non ci interessa una vittoria storica, individuale o collettiva. Ma ci interessa una realizzazione personale. Per strappare da noi il vero della inautenticità e per diventare ciò che veramente siamo. E per comunicare agli altri che questo è il senso dell'esistenza umana, se questo è un senso, e in ogni caso che questa possibilità può essere raggiunta qui e ora. Perché questo è il regno dei cieli. Non è da qualche altra parte. Il regno dei cieli è qui e ora. E' bellissimo Zutra del Cuore quando dice che il Samsara è il Nirvana e il Nirvana è il Samsara. E' questo che dobbiamo sperimentare. Il Samsara è il Nirvana. Già è tutto qui. Non bisogna andare da nessuna parte. Non bisogna andare da nessuna parte. Bisogna essere ciò che siamo. E allora le cosmologie, le antropologie, le etologie che si sono manifestate nel corso della storia e a volte apparentemente sembrano contraddirsi, però manifestano in realtà nel profondo un'unica grande intuizione che rimanda nella stessa direzione. Questa direzione si chiama tradizione. Ed è lì che noi dobbiamo orientare tutte le nostre azioni. Perché la tradizione è il centro. La tradizione è la parte più autentica di noi stessi. E noi vogliamo abbracciare tutto. Non c'è da negare nulla. Non c'è da rinnegare nulla. Non ci sono grandi cambiamenti all'esterno da fare. Niente di tutto questo. Semplicemente essere se stessi. Semplicemente condividere. Semplicemente mettersi nell'immobilità di giorno in giorno per scoprire questo silenzio che pur quando si comincia a scoprire resta sempre misterioso e inaccessibile per quanto è vasto e per quanto è immenso. E allora, cari amici e cari amici, sotto quella pratica siate luci di voi stessi. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo Fidelità a voi stessi. Mi raccomando.